Ok, incominciate a sollevare adesso. Quindi braccia tese, tenetele forti altrimenti risuccede la stessa cosa. Forza! Un po' più su. Ma mola che bello scherzo. Su, 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 non mollare, non mollare. Ma perché l'avete tagliato? Ok, ci siamo, Ilari! Ilari, attenzione! Stavano facendo apprezzamento ai ragazzi, vai! Ok, sono partite! Attenzione che questi sono tutti i secondi, delicati. Abbiamo ripristinato il gioco per potercela gustare. Rosaria, Valentina. Attenzione! Ha mollato! Pochi secondi, ha vinto! Di già, Rosaria! Eccoci! E allora complimenti a Valentina, sei il vincitore di questa nuova! Rosaria! Tu sei la seconda nominata, come mai? Ma che è successo, Rosaria? Purtroppo io non ho forza nelle braccia, giuro! Alla prossima! Grazie a tutti